tu vuoi giocare a quello collega e quando vuoi giocare con quel pupazzo ho capito che vuoi giocare con la telecamera vuoi fare quando uscirai farai le cose con la telecamera no che è la telecamera quella non si chiama telecamera il pupazzo hai ragione hai ragione hai riposato non mi sono riposato comunque complimenti quello che mi fa dammi il buono grotto ci vuoi dire che stai con il tuo cazzo proprio la barra proprio aspetta chiaro allora nel senso io avrei rubato e se non fossi stato dietro le sbarre mi avresti fatto stare in una bara il minimo parole grosse e poi abbia il coraggio lì che in camera quali problemi a lui a me è uguale che la regia aspetta non lo distrarre perché la cosa e che costi avrei rubato scusa ti sei peccato appena appena in un valore di 200 mila perché 200 mila euro 200 mila euro e da dove te li avrei grattati 200 mila e come faccio un mani a mani e poi mi amare una fuori come prendo le cane a sé lo faccio a sé o a sé scusa ma oggi da dove sei venuto fuori con questa cosa qua il mondo per quanto è grande per quanto è piccolino se io che ti tengo felice cangier lo sai tengo un po' da un tutto bello soveglianza speciale mi ha messo una tenata una caprice allora 200 mila euro mi ha buttato fuori a chiamare l'architetto adossi città anche da che la famica mi dispiace tantissimo anche credendo un po' insomma fiuso dava lui che le basi metto bello c'entrava che non fresca fete ma cosa ti avrei no ma ti prego non non ci non ma che parla perchè sono un malazionese di prima categoria che cosa sono tu sono un malazionese di prima categoria vuoi spiegare per favore come ti ho rubato questi soldi da dove ne sei asciuto cioè come no 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 guardate il barbeco è meglio perché oggi mi stia accusando di questa cosa tu come si Cioè non 2 mila euro, cioè 200 mila euro. Sì, è quello il problema. E tu tenevi 200 mila euro. E io, sai come è vero? E tu tenevi due, di me ti pensi a me grato, grato, grato. Cioè a me, a me lo chassi che ti ghi, a tu stai a vedere te, a me lo chassi che io l'ho, a me lo chassi, 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 a me lo chassi. Eh? Che so che la pace fa a fare? Ma parla ma? Parla. Parla? Dai, 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 dai. Mi ha lasciato senza parole. Volete capire pure in sacco di te? Cioè ha ragione lei no? No, ha ragione c'è chi, nel senso che... No, io grazie niente, non c'è me l'hanno gra, e niente a te sia, te la scappare, perché in boccaia è, dobbiamo andare al dunque, come dico io, ma non c'è, ha ragione, e vediamo, a me lo mandò, no? A me, beh, quella vede, quella valigia di 48 ore, beh, come ho detto che sei un collega? eh? Ma la metto sopra la tua, e beh, ma la metto sopra la tua, e beh, ma la metto sopra la tua, a me, che sono te. Aspetta, ma non è che hai visto qualche film, qualche rapina che si spattola il bottino? Ma non è sì, non dovresti lasciare un film, come se fai un mafio, un sacco proprio il mafio, il cash che ha comandato, non ha comandato, il cash! Mi stai facendo delle accuse gravissime, cioè io ti avrei rubato 200 mila euro, ma vogliamo spiegare come te li ho rubato, dove ce li avevi questi soldi? Eeeh, sai come, ma non mi soppostante, sai come devi fare? La fuga morì, sopra domani, eh? Ma tu ci sei tutti gli spiccioli che accumulavi? Allora, di chiù! Di chiù? E c'è pure lo cazzo grosso che lo sappiamo quando è in giù, ma cosa penso? No! Ma direi tu, questa cosa non voglio sapere! Ma perché c'è tu, madonna, madonna! Che vuoi una volta, che è questo che ho affigliato? Ma là dove? Ah dove c'è da tutto a quella manca, adesso che ho affigliato! Al San Paolo? No! E dove? Che d'altro, che d'altro San Paolo? E' in giù! Ah, in giù te, a San Paolo? Cato! Adesso che ho affigliato pronto! Adesso che ho affigliato! A Cattino, in giù te, tu sei affigliato! Voi a morire! Si? Allora? Parlo, va? Di qualche cosa! E che devo dire io? Che sono bello di te! Adesso che ho affigliato! Cioè, c'è questo che faccio l'accuso! Tu non sei noto! E poi c'è quello che c'è quello che c'è quello che c'è! E io sto affigliato! Perciò, metti li su un banco, beh, me li fai vedere? E li metto da qua! C'è quello che devo fare? Allora scusa tua! Noi lasciamo... Ma io non so, come dici tu, la data pressione! Che due anni e quattro mesi, la pressione! Eh! Parla, mo! Parla! Di! Di! Parla! Sì! Quando mi hai portato l'acqua minerale! E la tua signora la poteva pure uscire! Che me la salutava e te ne andava! E hai fatto il biancione là! Perché rispetto a te, rispetto a pure la signora! Eh! Ma voi non parla, ma... Ti ha salutato! Noi! Si deve fare il saluto! A dovere! Veniva e ci ha detto, ma accetto! Ma almeno è questo! Perché come persona! Così si fa un amico! Ma se tu stavi dietro le... No! Ne stavo indietro! Stavo so apre! Lei poteva uscire tranquillamente e salutava! Da signore! Non è in macchina! C'è un amico! Non è in macchina! Non è cappucano! Non è in macchina! Ma non ci vede! Che bella! Con queste cose non sono! E' questa mola! E' questa mola! Si! Ma fai cosa ho fatto! Ma... Ma poi ci vediamo! Si! Io ho detto così! Si! Ma questo qua non c'era! Non c'era! Non c'era! Tutte e due! Che stava la signora... Ma io come ti avrei detto? Ma non è in macchina! Ma lo fai fatto! niente da fare è delicato a chi mi serve oggi hai devastato no ripeti cosa ti avrei detto perché poi chiederemo ad anna maria se è vero non è vero che cosa ti avrei detto quando ti ho lasciato l'acqua minerale l'altro giorno le macchine vogliono me la devo salutare come te l'ho detto quando ti ho portato l'acqua cosa ti ho detto è perché stai ingrazzato con me sconto soffo fa un cappè che mi chiede adesso mi si deve presentare il classico non è come un uretto ora mi ha detto che se mi stai dipingendo come un criminale in calvizia e che sto con bellissima angela da con 41 peso sovelezza speciale voglio che adesso mi devo salutare per bene che noi due siamo colleghi la regia c'è tutte queste cose ho fatto io e quando te le avrei fatte non mi hai detto niente fino ad oggi ma come si dice le tue cose che si mali ma la si dà tutto per me ma la regia mi ha dato la malinità insomma mi ha dato male che mi ha dato male voglio vedere io come vuoi malignoso 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 la malinità ma tu te tu mi ha dato male non mi ha dato un po' ma non mi ha dato un regia da me o è la malinità stica io sono rimasto oggi quasi senza parole cioè tutta sa cattiveria oggi stai conti da dove li hai prese c'è qualcuno che ti ha instillato sta cosa no 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 perché le voce qua girano ho capito ma come hai fatto a fare i conti 200.000 euro come ti ho fraccato come ti come ti avrei rubato 200.000 euro che cosa ci vuole che cosa ci vuole a fare la barba a troppo un bel video quando c'è quando mai c'è di fare bella situare bello tipo ci vuole ma perché tu ci puoi fare non lo sai fare ma che dobbiamo mandare o angelo ai due miei compari a fare di nuovo bello o vuoi non vuoi dobbiamo mandare di nuovo o angelo 2000 altri due miei compari oggi sono veramente rimasto di stucco ma stai scherzando io scherzando come devo passare a trover poi scherzando pure a voi che ripartiamo a due lega non c'è di più non c'entra noi ah si dopo il penale si aiutatevi ah non so vabbè ti piaccio a bufavio non di qua di là ma tutto il mio dottor è che il prossimo anno ti avvisco non so scrivere a noi ex royal la io non mi presento insieme a te aspetta dove all'ex royal dove c'è andata a fare che te ti baci dalla signora che si ci percomozzi sta già dicendo che non verrà al secondo anno di quinto potere perché perché vedo come dico io verrai o non verrai bene dopo tempo ragione 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 dimmi reggita questa questo livore quest'astio di oggi da dove va su da dove uscire da dove va su ma mamma bomba vecchi o cat e in confidità ci mani ci mani ci mani bevevamo la che vediamo dove fa nè collega ma allora parlamo dicci così da adesso niente per ora è solo per ora ma ci mani lo vedi come stai tremando stai tremando è quasi tutto ttino sblocca il dispositivo sblocca grazie 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 grazie